ciao a tutti ho ritirato dalla chica boom che un'azienda italiana con sede legale a genova un personaggio maxi uno squalo andiamo a vederlo ok ragazzi è proprio molto molto carino perfetto andiamo a vedere se riusciamo a togliere queste cinghie ma è pesantissimo al tatto è abbastanza è un tatto tipo vellutato al tatto questo personaggio fa parte del lax corps fighter è di quattro colori questo è il maco verde poi ci sta lo shark blu il fini viola e l'abyss verde la sua altezza di 23 cm ed ha un peso considerevole è di circa 2 kg ma alcune volte è anche un po di più onestamente ogni parte del suo corpo si può allungare di tre volte la sua superficie come si può ben vedere anche le gambe la testa all'interno al tatto sembra sabbia o comunque è un materiale molto simile alla sabbia sulla testa si può vedere la zona di riempimento del pupazzo che sarebbe questa palata qui dopo viene incollata e sigillata ha anche dei molti particolari è un bel personaggio la testa si allunga poi basta scuoterlo e ritorno come prima alla fine del video metterò fotografie sia del maco grigio e sia dello shark blu mi raccomando non non perdetele ciao al mio prossimo video ragazzi ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.